mind palace il nostro viaggio tra le stanze della mente oh buongiorno alessandro buongiorno ci ritroviamo qui con mind palace come ogni mercoledì alle 12.40 fino più o meno alle 13.10 e poco dopo sulla mia pagina facebook oggi volevo prendermi una piccola rivincita per tutte le volte che ti sei lamentato del fatto che ho stampato in bianco e nero la tua bellissima mappa mentale questa qui è la nostra schematizzazione per la puntata di oggi si va bene invece di farla al computer con la grafica e tutto mi sono preso all'ultimo momento il buon alessandro nonostante noi abbiamo mesi e mesi di preparazione per queste cose oggi però ho avuto il piacere di vedere per la prima volta alessandro fare uno di questi schemi a mano a mano 10 minuti prima dell'inizio della puntata però era voluto perché oggi parliamo di schematizzazione l'ho fatto apposta non è che mi sono dimenticato di fare la mappa stamattina assolutamente no 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 ne sono tutti sicuri al 100% non preoccupate mi sono preso all'ultimo succede anche a me allora io farei subito tutte quante le marchette cioè vi ricordo che alessandro ha la sua pagina facebook alessandro deconcini trattino adc voi potete ascoltarci su radio km radio qrs sempre mercoledì sempre 12.40 13.10 per parlare un po' del mondo dell'apprendimento di tutto quello che fa funzionare meglio il nostro cervello e anche di come funziona il nostro cervello perché no oggi parliamo nel mondo dell'apprendimento di schematizzazione quindi ti lancio la parla per la nostra introduzione oh perché parliamo di schematizzazione perché allora intanto nella nostra seconda stagione di mind palace cerchiamo di insegnarvi praticamente anche a fare delle cose no quindi oggi ho pensato perché non insegnarvi come si fa uno schema in maniera corretta quindi quali sono i principi che ci stanno dietro ma soprattutto poi che cosa devo fare concretamente perché insomma è importante allora partiamo da dalle basi perché partiamo sempre dalla stessa cosa la seconda stagione è anche un po' più come dire è più organizzata abbiamo anche i nostri rami grafici però li vedete sullo schermo bellissimi beh comunque il primo la prima domanda è sempre a che cosa serve perché bisogna schematizzare allora io la dico la butto lì sei pronto Dario se non avete schematizzato non avete studiato punto qui ci voleva l'esplosione che uso al chiosco ogni tanto è così intanto ha nominato il chiosco Marchetta anche per il chiosco ogni giovedì la 12.40 cinema e serie tv ecco benissimo la schematizzazione è un momento fondamentale dell'apprendimento se non schematizzate quindi non rielaborate possiamo dire così le informazioni che avete studiato imparato compreso tutto quello che volete non rimangono ferme nella vostra mente non completate diciamo il percorso ideale di apprendimento e non ci siamo quindi va fatto ma stiamo parlando di schemi o di riassunti perché la cosa allora 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 entrambe le cose rispondono alla stessa domanda e cioè all'idea della rielaborazione cioè sono entrambi i metodi di rielaborazione il problema è che il riassunto è un metodo ottimale di rielaborazione per quanto riguarda anche l'imparare a scrivere l'analisi del testo per prepararsi per esami scritti e cose del genere il problema è che non è ottimale per ricordarsi le cose però mentre invece lo schema è più a breve termine è a breve termine ma soprattutto sviluppa altre competenze le competenze di tipo linguistico cioè se voi dovete abituarvi a scrivere dovete imparare a riassumere un testo dovete imparare a rielaborare un testo eccetera allora il riassunto con rielaborazione eccetera è un ottimo esercizio anzi direi un esercizio indispensabile possiamo dire così il problema è che se invece voi state utilizzando questi schemi per studiare quindi dovete ricordarvi ho buttato giù tutto praticamente in radio va bene dovete ricordarvi degli argomenti delle informazioni saperle esporre studiare insomma memorizzare una grande quantità di informazioni il riassunto non è efficace per niente o meglio non è efficiente perché poi se voi scrivete e riscrivete qualche cosa prima o dopo lo ricordate su questo non c'è dubbio ma è lento e qui parliamo di efficienza quindi dobbiamo consigliare lo schema piuttosto che il riassunto almeno nell'ambito studio sì 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 e poi vedremo nella nostra vicenda personale che io arrivo dai riassunti quindi sono di parte ne avevamo anche parlato qualche puntata fa avevamo accennato ai mega riassuntoni domanda quasi scontata cioè quando schematizzare? si schematizza sostanzialmente dopo aver acquisito le informazioni e averle comprese quindi non è che posso schematizzare prima di aver letto il libro oppure no schematizzo dopo che ho avuto un primo approccio con quello che devo imparare l'ho capito l'ho assorbito a quel punto schematizzo per consolidare i ricordi soprattutto per rielaborare le informazioni e presentarle come mie insomma adesso vi spiegherò bene perché e come funziona e adesso è domanda fondamentale che di sicuro tu che insegni anche molti studenti ti faranno cioè lo schema sostituisce il libro? bisogna stare molto attenti a questa cosa perché cercheranno gli studenti in ascolto comunque quelli che devono studiare cercheranno in tutti i modi di fraintendere quello che io sto dicendo allora lo schema sostituisce il libro quindi sì lo fa ma lo fa dopo che il libro è stato letto analizzato sottolineate le parole chiave e fatto tutto abbiamo fatto una puntata apposta sulla lettura efficace quindi andatevelo a vedere cioè non è che io ho lo schema allora non leggo il libro possiamo dire che l'aver fatto un buon schema eh sì sostituisce il libro esatto e un buono schema si può fare solo dopo averlo letto il libro e averlo capito compreso per fare lo schema lo davo per scontato cercavo di dare un quadro esatto no 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 è giusto quello che dice Dario cioè il concetto è il punto dello schema non è avere lo schema è fare lo schema fare lo schema è il momento è un momento di studio avere uno schema non vuol dire niente quindi se io adesso faccio sempre questo esempio quando insegno a scuola se io come per bacchetta magica potessi darvi lo schema di tutte le materie scolastiche da qui all'esame di maturità e ve lo dessi in mano non servirebbe a niente perché li avrei fatti io comunque sì diciamo che probabilmente i riassunti chi si fa passare i riassunti che è un po' una pratica classica i riassunti forse hanno un valore un po' diverso sì ecco in quel caso se devo passare qualche cosa il riassunto è sicuramente qualcosa di più più passabile più passabile sì perché non è personabile è un po' più come dire strutturato in maniera classica è un po' un mini libro per cui poi posso studiare il riassunto e tirarne lo schema sperando che chi l'ha fatto l'abbia fatto bene già speriamo e qui passiamo un po' ai principi della schematizzazione si parla prima di tutto di sintesi e superficialità eh sì questo è un fattore fondamentale se dite che voce profonda profondissima allora perché è importante cosa vuol dire sintesi e cosa vuol dire superficialità in questo caso perché poi hanno molte accezioni queste parole no ma che cosa intendo io in questo caso intendo per sintesi il fatto di riassumere e di esprimere tutte le informazioni necessarie tutte il 100% delle informazioni che mi servono con meno parole possibile nello spazio più piccolo possibile quindi è una questione di dimensione di quantità non di qualità tutte le informazioni dette in modo più chiaro più semplice con meno parole possibile questa è la sintesi la superficialità vuol dire abbrevio il mio schema il mio riassunto quello che è tagliando quindi la sintesi non taglia riduce la superficialità taglia quindi noi non stiamo parlando del bignami il famoso bignami erano quei libretti di una volta che sostanzialmente si cercavano di preoccuparsi di farvi prendere sei esatto tranciando tutto il resto cioè dandovi le informazioni base per poter prendere la sufficienza ecco quell'approccio è un approccio orripilante a noi non interessa questo a noi interessa avere tutte le informazioni e dirle nel modo più semplice diretto chiaro sintetico possibile ma tutte non ti chiederò qual è lo schema migliore perché vedremo tra poco che semplicemente anzi lo introdiciamo subito è una questione di congruenza con quello che stai studiando esatto come mi dicevi prima se tu studi stai studiando per un test di matematica usare uno strumento come la mappa mentale non è adatto perché la matematica me la descrivevi come lineare mentre la mappa mentale non si adatta a questa materia esatto e poi ne esistono perlomeno non a tutte le aree della matematica perché poi sono sicuro che adesso arriverà il matematico sotto che mi dice ma io non è va bene però ne esistono veramente tanti al di là delle mappa mentale uno di quelli da cui sono più affascinato è la nuvola di parole la nuvola di parole la accendiamo perché è uno schema un po' estremo che a me piace un sacco però non è da tutti e non è per tutte le materie soprattutto quindi diciamo così non esiste uno schema diffidate allora io per esempio sono un grande fan delle mappe mentali le uso continuamente le ho messe sulla mia pagina ci ho fatto tutti i miei esami universitari però attenzione non bisogna diventare dei fanatici di una certa metodologia di schema quello che bisogna fare quello che cercheremo di fare in questa trasmissione oggi è quello di capire quali sono i principi che stanno dietro agli schemi perché uno schema è efficace come mai le mappe mentali sono efficaci capiti quelli io posso trasferire quei principi a più o meno qualunque stile quindi non è importante lo stile è importante quei pilastri quegli elementi che fanno sì che il mio schema sia efficace salvi quelli potete fare quello che vi pare quindi se vi piacciono le mappe fate le mappe se volete fare un'altra cosa fate un'altra cosa non è importante l'importante è che ci siano alcuni capisaldi che adesso vedremo tra poco che sono fissi che devono esserci sempre e quindi non vi fissate e cercate anche parlava di congruenza Dario è sensato questo cioè cercate di utilizzare lo schema che si adatta di più a quello che state studiando se state studiando grammatica la tabella è lo strumento più efficace possibile a cui ho insegnato le mappe mentali e mi ha fatto la mappa mentale di grammatica inglese c'era il present perfect tutte queste cose qua io l'ho guardato e ho detto ma perché hai fatto la mappa eh tu mi hai detto di fare la mappa eh sì un attimo però non è che uno fa solo le mappe nel caso della tabella con le forme grammaticali è molto più efficace faccio la mia tabella capisco che se c'è questo caso qui c'è questa forma qui e via così e quel tipo di schema si adatta molto meglio quindi cercate di rimanere flessibili di capire quali sono i principi che rendono buono uno schema e applicarli a qualunque modalità e stile voi troviate soddisfacente e soprattutto che si adatti bene alla materia che state studiando ad esempio per preparare una trasmissione in radio la mappa mentale è molto discorsiva ti guida graficamente ti dà anche i giusti riferimenti per i vari collegamenti necessari ma prima di arrivare ai cinque fondamenti che deve avere qualsiasi schema parliamo anche di studio attivo allora intanto che ruolo ricopre la schematizzazione nell'ambito dello studio fare lo schema è studiare perché questo perché c'è una concezione una piaga dell'umanità che vede lo studio come una cosa passiva cioè un'operazione di assorbimento cioè mi metto lì col libro davanti leggo ti metti il libro sopra la testa per gravità ti scenderà e scendono le informazioni lo studio è fare fare se in qualunque momento del vostro studio voi non state facendo qualcosa e non sapete esattamente che cosa state facendo e perché lo state facendo adesso e non prima e non dopo non state studiando bene quindi lo studio attivo si intende quella concezione dello studio che io cerco di pubblicizzare tantissimo in cui c'è sempre un'attività da svolgere la famosa caccia la caccia esatto quando abbiamo parlato di lettura abbiamo parlato del fare la caccia in generale trasformare lo studio in una serie di attività di operazioni prestutto strutturate che io devo seguire ma che devo eseguire quindi c'è una una importanza nella proprio nella proattività di chi sta studiando ok fare cose e il fare lo schema è sicuramente il caposaldo di questo va bene quindi è molto molto importante per la concezione proprio della praticità dello studio altri due concetti così un po' al volo ma sono importanti la rielaborazione e la personalizzazione e vanno a braccetto questi due concetti che cosa vuol dire vuol dire che lo schema è quel momento in cui voi passate dal avere interiorizzato assorbito a qualche cosa a farlo vostro quindi dargli la vostra impronta idealmente lo schema deve rappresentare il modo in cui voi vedete quell'argomento quindi se io e Dario studiamo la stessa cosa le informazioni contenute nel nostro schema saranno uguali i nostri schemi saranno profondamente diversi perché il modo in cui lui ragiona non è il mio è peggiore naturalmente ma questo sì Dario ha il potere purtroppo in radio non posso troppo provocarlo insomma diciamo che ognuno ha il suo modo ognuno vede dei collegamenti diversi si usano parole diverse colori diversi cose diverse insomma quindi lo schema è molto personale ed è proprio un momento di rielaborazione tant'è che l'unico modo adesso vi faccio l'unico caso in cui si può non fare lo schema è quando la rielaborazione avviene tramite forma orale la cosiddetta tecnica di Feynman cioè invece di schematizzare tengo delle lezioni su quell'argomento e quindi sono costretto a riorganizzare nella mia mente le informazioni per poterle spiegare a qualcuno ecco perché spiegare le cose a qualcuno è un buon ripasso perché di fatto faccio la stessa cosa che faccio con lo schema metto ordine e poi esprimo a parole mie quello che ho imparato è la stessa cosa la personalizzazione un po' l'hai già l'hai già coperta cioè alla fine uso il mio stile le mie parole esatto quando abbiamo parlato di letture di parole chiave abbiamo anche detto che insomma ognuno trova le proprie di parole chiave e quindi le inserisce nello schema per quanto riguarda i cinque fondamenti sono proprio cinque che sono fondamentali per tutti tutte le forme di schemi che voi vogliate anche sull'immaginarvi e il motivo per cui le mappe mentali come altri schemi che vanno molto in voga la mappa mentale va molto di moda ma il motivo per cui la mappa mentale funziona ed è un ottimo tipo di schema non è che è qualcosa di mistico sovrannaturale che Tony Buzz un giorno è sceso dal monte e ci ha dato la mappa mentale no semplicemente la mappa mentale è uno schema che incorpora tutti gli elementi che fanno di uno schema un buono schema ma voi quegli stessi elementi li potete incorporare in schemi anche di tipo diverso quali sono questi elementi? il primo si spiega quasi da solo è la gerarchia la gerarchia allora siccome lo schema non è un riassunto come abbiamo detto ma è una rappresentazione è chiaro che deve essere evidente dalla visione dello schema come le informazioni sono disposte se io le butto alla rinfusa tecnica della nuve di parole è un'applicazione in generale se io butto alla rinfusa le informazioni non ricavo la struttura perché? perché quando io prendo il libro nel libro la struttura è data dalla sintassi cioè da come sono scritte le frasi se io tolgo la sintassi perché sto schematizzando non mi resta niente mi restano parole vuote se io non le sistemo in modo che sia chiara la gerarchia che può essere una gerarchia soprattutto di tipo causale quindi questa cosa causa quest'altra ma anche temporale prima c'è questo poi c'è quello oppure di importanza questo è più importante di quell'altro questi due argomenti sono collegati tra i loro eccetera se io tolgo tutto questo non si capisce niente quindi questo è molto importante nel parlare per esempio della trasmissione la gerarchia come parola è sotto fondamenti perché prima parliamo di fondamenti e poi arriviamo ai vari fondamenti nello specifico parole chiave ne abbiamo già parlato prima fondamentali bisogna stare attenti alla superficialità e a non tranciare informazioni e non si confonda lo schema con il riassunto quindi nello schema solo parole chiave tranne con l'unica eccezione di magari definizioni o parti che non possono essere riassunte non so devo citare un verso di Dante e lo devo citare così com'è e va bene ma per il resto dove si può sempre solo parole chiave poi una cosa di cui io sono un grandissimo fan il colore il colore è stato dimostrato da infiniti studi scientifici che il colore aiuta a ricordare aiuta a separare gli argomenti però attenzione non il colore a caso cioè il punto non è colorare lo schema tipo Arlecchino perché che bello coloriamo non è quello il punto il punto è assegno ad ogni argomento ad ogni sottoragionamento eccetera un suo colore e tengo quel colore su ognuno dei così puoi tracciare anche in uno schema grande il colore proprio a colpo d'oltre e tra l'altro rende lo schema molto più piacevole da leggere che non è una cosa da sottovalutare sì perché come diciamo sempre la noia è terribile quando si parla di apprendimento poi c'è la grafica che anche qui elementi grafici immagini ma anche soltanto le frecce i rami le caselle tutti elementi che come dire coinvolgano i nostri sensi la nostra vista in particolare in modo un po' più elaborato delle semplici stringhe di parole visto che studiare non è diciamo un'attività piacevole sì no piacevole no può essere interessante dobbiamo renderla pagante quanto meno esatto questo sì e la grafica è uno di questi elementi se sto studiando di nuovo la cellula è evidente che il disegno della cellula dovrà essere messo perché se no non capisco niente quindi nel mio schema dovrà trovare spazio anche la rappresentazione grafica e quindi particolarmente importante queste materie quinto ed ultimo ma non meno importante dei cinque fondamenti l'esaustività di uno schema allora lo schema deve contenere tutte le informazioni che vi servono cento per cento se dopo aver fatto lo schema siete costretti a tornare sul libro quello schema non è completo punto quindi come abbiamo detto lo scopo dello schema è quello di sostituire il libro dopo però deve essere fatto ci deve essere tutto e la esaustività anche in un secondo senso cercate di tenere di esaurire un intero argomento in un unico schema in un'unica pagina in questo modo avete tutto sotto controllo e sapete che non dovete andare da altre parti sintesi massima organizzazione massima un colpo d'occhio devi avere tutto un argomento esatto a portata di mano esatto noi ci salutiamo con Jay-Z ancora ma solo per un paio di minuti perché poi ritorniamo per la polpa per la pratica come si fa pam tranciato yes east coast east coast yeah non sono un grandissimo fan di Jay-Z ma ammetto che ci sta ci sta west coast nel cuore quindi sono per dottor Dre e ice cube portiamo un po' di cultura hip hop americana in questo mind palace ice cube è insuperabile secondo me potremmo fare uno schema così live disegnando sulla webcam sì 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 sarebbe bello lo faremo no comunque davvero io adesso vado a mostrare è stato molto bello vedere Alessandro fare in un mezzo minuto in preda a un lucido pane quello definirei oddio comincio la trasmissione non ho ancora fatto nulla la mappa mentale e ne avevamo vai io ormai conosco Alessandro da parecchio tempo e l'ho già visto preparare anche letteralmente degli schemi però è stato molto molto bello perché ha cercato di rispettare i cinque fondamenti di cui abbiamo appena parlato nel minor tempo possibile l'unica cosa con rami proprio l'unica cosa che non sono riuscito a fare è dargli un colore non ce l'ho fatta eh vabbè ma insomma però hai disegnato i pallini hai disegnato le strisce anche quello vedete non potendo usare i colori magari ecco nei rami principali gli ho dato una loro caratteristica cambiando un po' la grafica e insomma mi ricordo che in uno schema che avevi anche pubblicato sulla tua pagina compariva anche Dario cameraman che era c'era la mia faccetta visivamente con una barba con una barba ancora lunghissima era se non sbaglio il numero 20 o 21 dei miei video quindi l'atea ritrovarlo cioè ero io che facevo una mappa in diretta quindi insomma beh era bellissimo noi abbiamo adesso la parte più pratica vedo che ci sono tantissimi numeri e poi i nostri soliti esempi di vita e i tantissimi numeri devo ammettere che mi inquietano però sono molto ordinati sì no no sono molto ordinati diciamo che sarà molto importante ricordarsi quelle cinque caratteristiche no? perché per fare uno schema praticamente bisogna naturalmente seguirle quindi ricordatevi di usare i colori non lo ridirò mille volte se vi ho detto solo parole chiave solo colori eccetera non lo ridirò è dato per scontato quindi quella parte è molto importante ti metto un po' alla prova vai 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 cerchiamo qualche cenno storico degli schemi per esempio non so se sei preparato non sono preparato no allora c'è chi dice che le prime pitture addirittura rupestri fossero un modo di ma naturalmente era arte quindi non credo che ci sia una netta separazione tra l'arte e la schematizzazione intesa almeno fino al mondo moderno quelli che ho sempre trovato molto interessanti sono gli schemi di Leonardo perché con l'eccezione del colore rispettano tutte le caratteristiche di un buono schema e la cosa interessante è perché non rispettano la questione del colore perché i colori all'epoca costavano tantissimo esatto era poco intelligente però io sono relativamente sicuro che se avesse avuto i colori li avrebbe anche colorati sono degli schemi molto belli perché hanno l'aspetto grafico hanno le informazioni disposte in maniera dovremmo fare una puntata su Leonardo sì è Leonardo fantastico però la schematizzazione è comunque una cosa antichissima e diciamo si è evoluta nel tempo diciamo da poco nell'era delle neuroscienze ha cominciato ad assumere un connotato anche scientifico più strutturato ci si è studiato che cosa funziona e che cosa no ma come spesso accade con questi temi di psicologia che poi si trasformano in neuroscienze diciamo il senso popolare era arrivato alla cosa giusta tutti sapevano che il colore migliorava le cose poi certo con una scansione cerebrale l'abbiamo confermato però si sapeva già era ovvio che questo succedesse e così come l'importanza delle parole chiave voglio dire è una cosa antichissima insomma si fa da una vita sì sì è che quando arriva uno scienziato che ti dice migliori dell'x per cento questo tra l'altro è molto difficile però in generale sì diciamo queste regole sono più che altro non sono oggetto di dibattito anche se il tuo gusto personale ti dice che così non va bene funziona per tutti esatto nella maggior parte dei casi è così e basta funziona e punto tranciamo dottor Dre ritorniamo dalla storia sì perché hai citato dottor Dre vedi allora rieccoci qui Mind Palace per la nostra puntata sulla schematizzazione oh yes insieme al buon Alessandro De Concini e Dario Chiocchetta allora siamo arrivati al nostro terzo ramo quello che scende un po' nella pratica sì della schematizzazione sì 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 anche qui molto ben schematizzata la nostra scaletta che rimostravo anche in fuori onda si vede proprio si vede proprio che ci ho dedicato molto tempo anche proprio ci ho pensato è fatta bene anzi ti dirò è fatta quasi meglio ah grazie 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 qualche stoccata oggi dai permettiti ci stava ci stava no allora come dicevo anche nel fuori onda non vi ripeterò usate i colori usate le parole chiave perché questi li do per scontati se avete capito le cinque regole che vi ho dato prima se non l'avete capito sono capito esatto andate a rivedervela allora prima di tutto il famoso sequencing e chunking di cui abbiamo già parlato cioè prima di poter fare uno schema devo capire che cosa voglio metterci nello schema e in che ordine voglio farlo allora banalmente la maggior parte delle volte andrà a finire che il vostro schema avrà un argomento principale che è tipo l'argomento del capitolo del libro e i sotto argomenti principali che saranno i paragrafi mediamente è così però l'ordine in cui li voglio mettere questi paragrafi dipende da me faccio sempre l'esempio io ho studiato mi sono anche laureato in lettere lettere poi linguistica però studiavo un autore facevo la mappa ci mettevo la vita poi ci mettevo le opere il pensiero e via così e quindi facevo dei colori appositi sempre per lo stesso argomento e li tenevo fissi così quindi avevo deciso di suddividerli in quel modo a prescindere da come fossero nel libro se la vita era dopo le opere io comunque la vita la mettevo prima perché mi piaceva di più così insomma dal tuo punto di vista era più efficace questo ci dice che cosa ci dice che lo schema va assolutamente rigorosamente fatto dopo aver già letto e sottolineato le parole chiave perché altrimenti non so quali saranno le informazioni che dovranno andare nello schema e quindi certo non posso scegliere quindi si decidono diciamo i segmenti del proprio schema se il proprio schema fosse una frase si decide come suddividere nel corso del tempo si sviluppa anche una certa sensibilità di quanto ci sta in uno schema e quindi io so che ne so ho studiato un capitolo da 30 pagine so che riesco a farlo in due schemi e ti dico i primi tot paragrafi li metto qui e altri li metto lì insomma in modo da essere efficiente poi c'è vabbè scontato sempre quello la raccolta del materiale che cosa serve per fare uno schema vabbè i colori io vi consiglio i pastelli perché qui per narelli si fanno un sacco di macelli ah ho fatto anche un sacco di questo vedi questo qui è proprio un consiglio pratico vi consiglio se fate schemi di tipo lineare quindi lo schema matematico pagina dritta i vari elenchi e varie cose vi consiglio i quadretti per tutti gli altri tipi di schemi vi consiglio il foglio bianco quindi le righe vanno bene per i riassunti ma secondo me per gli schemi non sono un gran che quindi io vi consiglio foglio bianco per tutte le mappe e simili e poi chiaramente se volete vedere come si fa una mappa mentale andate a vedere i video appositi che ho fatto perché qui non c'è purtroppo il tempo lo dicevamo in fuori onda intorno al 20-21 20-21 della mia serie adc numerata e invece invece se quindi quadretti o foglio bianco le foglie righe le lascerei perdere ecco questo è molto importante raccogliete materiale raccogliete colori raccogliete penne matite quello che volete cercate di avere tutto il materiale necessario naturalmente materiale anche dal punto di vista pratico perché lo schema deve sostituire poi il libro per cui voi dovete avere il vostro libro sottolineato con parole chiave già tutto a posto pronto ma dopo vedremo che diciamo le parole chiave fanno parte del processo di schematizzazione se vogliamo dire così dovete avere quindi il vostro libro dovete avere eventuali appunti e altre fonti da cui volete trarre informazioni per inserire nel nostro schema non è raro per esempio per lo studio universitario prendere da più libri per fare uno schema unico quindi dovete avere sì anzi molto spesso è quasi richiesto perché sennò andando a saltare da una dispensa all'altra si perde in concentrazione si perde in concentrazione e ricordatevi che lo schema non deve essere ridondante per cui se voi avete due dispense diverse e un libro diverso che trattano tutti dello stesso argomento da ottiche differenti voi cercate di mettere tutto insieme anche a costo magari le prime volte ma la butto io lì di rifare magari lo schema cioè di provare a farlo le prime volte e ritornare indietro le prime volte la brutta copia capita poi dopo si smette di farlo con che sicurezza proprio che cosa serve poi un po' più a livello personale per riuscire a fare uno schema ma beh è efficace possedere la lettura efficace abbiamo fatto una trasmissione apposta quindi quello che serve è andare a recuperare il mind palace di due settimane fa in generale quindi bisogna leggere in maniera efficace perché se non ho incamerato le informazioni in primo luogo non posso rielaborarle questo è chiaro lettura efficace parole chiave devo aver sottolineato tutte le parole chiave una volta che ho tutte le parole chiave ho tutto il materiale eccetera comincio a realizzare lo schema lo realizzo tenendo conto di quei cinque punti quindi mettiamo che io stia facendo una mappa allora io parto dal centro mi metto l'argomento faccio partire i rami principali faccio attenzione alla gerarchia e inserisco le informazioni tramite le parole chiave in modo che siano legate tra di loro una a una e formino dei reticolati quindi non un elenco ma proprio una rete se invece sto facendo uno schema di tipo lineare avrò cura di magari dividere la pagina in tre parti mettiamo che io stia studiando geometria allora le regole in alto in rosso con il disegnetto che mi aiuta a capire poi l'esercizio svolto sotto poi magari il nota bene con dei dettagli su errori tipici regole specifiche e quindi diviso per blocchi quindi diciamo abbiamo queste due grandi tipologie lo schema lineare che è per tutte le materie di tipo sequenziale magari molto molto schematico lineare con la matematica la fisica l'ingegneria di un certo tipo l'informatica di un certo tipo eccetera per quel tipo di schemi vanno bene anche le mappe concettuali e quindi casella con la scritta dentro freccia e via così sono tutti schemi che indicano una progressione lineare quando invece si parla di storia filosofia concetti umanistico comunque concettuale perché per esempio per la biologia vanno benissimo le mappe mentali giusto ok chiaro che per la biologia andranno integrate però andranno integrate magari con i disegni magari con qualche tabella che può servire insomma ricordatevi anche questo il vostro schema non deve essere puro non è che se avete scelto quella tecnica allora si fa quella tecnica è quella definitiva potete anche contaminare insomma quindi realizzateli in questo modo e fate attenzione durante la realizzazione a ricostruire i percorsi che avete fatto ragionando sul libro cioè ricordatevi che realizzare lo schema non è un atto così a caso realizzare lo schema è studiare state studiando in quel momento quindi dovete non solo prestarci attenzione ma ogni ramo che fate dovete riuscire a ricostruire nella vostra mente tutto il ragionamento quindi l'atto del fare lo schema non è una cosa automatica non potete farlo pensando ad altro dovete stare lì e nel costruire lo schema recuperare tutti tutti i processi ecco questo è molto importante lo do per scontato ma lo chiariamo comunque lo schema si fa con il libro davanti osservando le parole chiave certo certo voi potete usare lo schema anche per ripassare e quindi magari farlo senza senza il libro davanti in una fase successiva ma generalmente con il libro davanti poi dopo averlo fatto lo schema base lo si abbellisce quindi si mettono i disegnetti si mettono i colori lo si sistema tutto quello che può aiutarvi a sentirlo vostro e a ripassare e più è bello è meglio è quindi ecco se volete mettere la faccia di Alessandro in quel caso è sempre il miglior schema possibile ecco e poi c'è il ripasso come si ripassa uno schema uno schema si rilegge naturalmente ma non basta rileggerlo bisogna rileggere e cercare di riattivare tutti i file che quelle parole chiave mi dovrebbero aprire ok quindi lo si più che rileggere uno schema si attiva uno schema cioè io leggo le prime parole e cerco di a cascata far tornare fuori tutti i discorsi quindi se è fatto bene lo schema generalmente le prime righe o le primi rami nel caso di una mappa li si legge davvero e poi si segue il flusso dei pensieri e si controlla che quel flusso davvero attraversi tutti i rami si dovrebbe anticipare diciamo quello che arriverà poi nello schema il ripasso avviene così quindi direi che brevemente così possiamo passare a qualche esempio di vita io purtroppo sono un esempio negativo perché non mi sono mai applicato a schemi più complessi ma ho sempre per quanto si siano un po' evoluti applicato i mega riassuntoni che poi si sono ma sai che lo facevo anch'io lo facevo anch'io ero proprio un patito dei riassuntoni poi ho scoperto gli schemi non li ho scoperti perché un giorno mi sono svegliato una mattina ma ho fatto dei corsi me li hanno insegnati e appena ho saputo degli schemi delle mappe mentali ho detto no neanche morto quindi il mio primo impatto con gli schemi in particolare con le mappe è stato negativissimo il mio è al contrario magari poi invece le studio e scopro che proprio non no io me le hanno insegnate ho detto col cavolo non lo farò mai 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 poi mi è capitato un esame di letteratura l'unico esame di letteratura che ho trovato difficile era letteratura italiana moderna e l'ho trovato difficile per qualche motivo non so quindi hai deciso di lanciare ho detto faccio qualcosa di diverso le prime volte sono stato lentissimo ho fatto queste mappe erano fatte malissimo però l'esame è andato bene e l'esame dopo ho riprovato e da lì non ho più smesso diciamo mi sono abituato quindi il primo impatto con uno schema se passi dal riassunto o addirittura da non fare niente può essere traumatico all'inizio ma se poi ti dai il tempo di imparare diventi velocissimo è effettivamente efficace ed efficiente per tutti tra l'altro che dire il buon Alessandro Deconcini e il mitologico Dario Chiocchetta noi ci ritroviamo sempre mercoledì prossimo sempre alle 12.40 con Mind Palace a presto Mind Palace il nostro viaggio tra le stanze della mente a presto un po' di giù le stagione a presto Grazie a tutti